Inaccettabile che la lotta alla pandemia sia sabotata da violenze e interruzioni di pubblici servizi accompagnata da una martellante propaganda no vax e no pass. A prendere posizione sull'argomento è la Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Romina Mura. Questo clima deteriore, aggiunto alla Mura, deve essere fronteggiato con fermezza dalle istituzioni e non deve far passare in secondo piano problemi reali e concreti da risolvere sul fronte del lavoro come quelli legati alla tutela della quarantena per i lavoratori fragili e per la malattia conclamata da Covid. Le dichiarazioni dell'esponente del PD arrivano dopo l'annuncio dell'iniziativa No Green Pass con l'intento di bloccare il traffico ferroviario. All'opposto dei farneticanti che denunciano la dittatura sanitaria a Monisce Mura, qui qualcuno persegue l'anarchia sanitaria, il disordine sociale, il fallimento della ripresa economica e lavorativa. Per fortuna c'è un largo e trasversale fronte sociale che sta esprimendo chiare posizioni di ragionevole legalità.